Musica Buonasera cari tre spettatori, ben ritornati con noi e come ogni martedì sera affronteremo insieme ai nostri ospiti diverse questioni, diverse tematiche molto interessanti, questa volta guardiamo avanti, guardiamo anche alla tecnologia, parleremo, no non vi dico niente così restate con noi, parleremo innanzitutto di SPI CGL, lo faremo con i nostri ospiti dello SPI e quindi seguite la prima parte poi restate sempre con noi che vi svelerò anche i numerosi ospiti della seconda parte, via con lo SPI